Su una collina alle pendici dei Monti Ernici sorge Alatri, borgo della ciociaria pieno di arte e storia, universalmente conosciuta come la città dei ciclopi, per l'eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di architettura antica in Italia. Stiamo parlando dell'acropoli della Civita, simbolo delle città megalitiche del Lazio. In epoca preromana fu potente roccaforte degli Ernici, antico popolo che dominava gli omonimi monti e le zone territoriali limitrofe. Il suo centro storico è caratterizzato da un insieme di vicoli tipicamente medievale che si snodano attorno all'acropoli, impreziositi da piazze antiche e palazzi nobiliari. Esempi sono Palazzo Gottifero in Corso Cavour V che ospita anche la sede del Museo Civico, e Palazzo Conti Gentili, situato in via Roma al Civico VIII. Molto belle le due fontane monumentali entrambe ottocentesche. La Fontana Pia in Piazza Santa Maria Maggiore e la Fontana Antonini in Corso Umberto I nei pressi della Chiesa di San Francesco.